La risposta a tutti coloro che chiedono la sostituzione di Kimi Raikkonen con Fernando Lonzo alla Ferrari per il prossimo anno è arrivata per via in diretta attraverso un'intervista rilasciata da Aldo Costa, direttore tecnico della Ferrari, ad un quotidiano finlandese. Aldo Costa ha dichiarato che la Ferrari ha pronto un intenso programma di test invernali da affidare a Kimi Raikkonen. Si tratta di 9.000 km di test, una distanza pari a 30 Gran Premi. Un lavoro enorme che fa capire come l'ormai ex campione del mondo sia considerato una certezza in rosso per il 2009. Intanto sulla pista cinese di Shanghai tutto è pronto per il primo turno delle prove libere. Felipe Massa e Lewis Hamilton affermano che i due Gran Premi che ancora mancano saranno davvero molto combattuti. La cosa strana è che nessuno prende in considerazione il polacco Robert Kubica, ancora matematicamente in lotta per il Mondiale e la BMW che è staccata di 13 lunghezze dalla Ferrari e solamente di 6 punti dalla McLaren. È giusto ricordare che lo scorso anno tra Hamilton e Fernando Lonzo il Mondiale poi alla fine lo vinse il terzo incomodo, Kimi Raikkonen.